Buongiorno a tutti, oggi tocca a me proprio il compito di descrivere tutto l'iter progettuale che abbiamo seguito, che il gruppo di lavoro che appunto nell'ultimo biennio ha avuto l'onore di coordinare ha seguito. Il cui obiettivo principale, come se l'ho detto stamattina, è essenzialmente quello proprio di individuare a seguito di un'analisi comparativa degli indicatori, cioè delle metodologie in uso, un corsetto di indicatori di sistema, quindi un insieme di indicatori che è fattibili da tutte le realtà del sistema con la stessa metodologia. Ora inizio con il ringraziare i numerosi colleghi e colleghe appunto del sistema che hanno contribuito al raggiungimento di tutti gli output previsti dal progetto, quindi non solo il gruppo di lavoro costituito appunto da Ispra e da cinque agenzie, quindi l'Alpa Sicilia, l'Emilia Romagna, l'Alfriuli, il Piemonte e la Lombardia, ma da tutta la relativa rete dei riferimenti dove in genere partecipano tutte le altre agenzie non partecipanti al gruppo rappresentativi appunto di tutto il sistema e in più, lo accennava la dottoressa Giunta poco fa, abbiamo avuto diversi momenti di condivisione e confronti con circa 120 esperti tematici di Ispra e delle agenzie partecipanti al gruppo, così come con cinque gruppi di lavoro tematici proprio del sistema con le quali ci siamo appunto confrontati in corso d'opera. Forse sarà stata l'intertematicità, diciamo, della trasversalità degli argomenti trattati, però in effetti si è riscontrato un elevato livello di partecipazione. Perché il cambio? Quindi adesso la presentazione avrà la seguente impostazione, quindi qualche delle fasi progettuali, quindi spiegherò un attimo le frasi progettuali che abbiamo seguito, l'approccio metodologico che abbiamo scelto e poi i risultati a cui si è pervenuti e infine un cenno, semplicemente un cenno ai possibili sviluppi futuri. Quanto riguarda le fasi progettuali, possiamo suddividerle in quattro macro fasi progettuali, fasi, fasi. Abbiamo la prima fase che poi è stata quella propedeutica, quindi dove si è fatto un vero e proprio, si è cercato di fare un vero e proprio censimento, quindi una ricognizione di tutti gli indicatori utilizzati nel sistema per descrivere lo stato dell'ambiente. successivamente la fase più corposa, la fase più piena di tutti quei momenti di condivisione in cui scendiamo prima, la parte meteorologica, è l'analisi dei risultati di questa ricognizione con la proposta di un primo corsetto di indicatori fatta alla rete di riferimenti, quindi al resto delle agenzie non partecipanti al gruppo. Infine le attività progettuali prevedevano altre due fasi dove abbiamo definito la scheda indicatori, quindi i metadati a corredo degli indicatori di sistema e infine la definizione dei contenuti, della struttura in qualche modo che è una piattaforma informatica, quindi una sorta di vetrina web dovrà avere per presentare il corsetto con un'unica voce all'esterno. Ecco che quindi appunto, adesso andando ad iniziare le singole fasi, parliamo della ricognizione. La ricognizione abbiamo chiesto a tutte le agenzie, quindi il gruppo si è dotato praticamente di uno strumento, di un questionario evidentemente e abbiamo chiesto tutta una serie di meta informazioni. Ora in realtà ciò che ci serviva, visto che l'approccio doveva essere metodologico, quello che ci serviva era sapere la descrizione dell'elaborazione degli indicatori che venivano utilizzati nel sistema per poter fare appunto il conseguente confronto. Ovviamente abbiamo chiesto tutta una serie di informazioni, di meta informazioni a corredo e diciamo aggiuntive, al finché potessimo come gruppo cercare quantomeno laddove magari la descrizione dell'elaborazione poteva essere scritta in maniera sintetica o in maniera troppo tecnica eccetera eccetera, insomma in modo tale da avere altre informazioni che ci permettessero quantomeno di dedurre, qualora non era esplicitata in maniera chiara, di dedurre appunto la metodologia di elaborazione degli indicatori. Quindi qua andiamo a informazioni relativi appunto alla descrizione, allo scopo, agli obblighi normativi, spesso sono stati utili proprio per capire, unità di misura, copertura spaziale, temporale, insomma, è soprattutto la fonte dei dati utilizzati, dei dati di base. Quindi adesso un po' di statistiche, permettetelo, visto che è il mio lavoro, su questa ricognizione. Appunto abbiamo avuto un buon risultato nel senso un coinvolgimento si vede anche da questo, cioè da subito l'82% delle agenzie hanno risposto in maniera più o meno esaustiva al questionario, solo 4 non hanno partecipato. Questo ha fatto sì che arrivassimo a censire più di 1600 indicatori, nonostante hanno partecipato solo 18 agenzie, con una media appunto di 91 indicatori per agenzia, quindi considerando anche i 300 di ISPRA andiamo, un campo di variazione che andiamo da agenzie tipo Piemonte e Puglia che hanno dei corsetti intertematici per descrivere lo stato ambiente più di 150 indicatori, a delle agenzie che invece utilizzano dei corsetti molto più sintetici per lo stesso scopo. Ad ogni modo, questo un po' conferma quanto l'attività di reporting basato su indicatori sia un'attività storicamente sentita e utilizzata nell'ambito di sistema e che ci ha permesso quindi di poter portare avanti questa attività. Per quanto riguarda altri due flash diciamo informativi, è messo che la qualità dell'aria, c'è presente 18 agenzie su 18, quindi tutti quelli che hanno partecipato, hanno mostrato indicatori di qualità dell'aria. 17 su 18 le sfere di azioni non ionizzanti e poi 16 su 18 rumori, idrosfere e rifiuti. Guarda caso tutte tematiche relative ad attività tipicamente agenziali. E questo è una conferma. Da questo grafico non so quanto si legge, sì più o meno. Qui è la distribuzione dei 1600 indicatori censiti per tipologia, appunto, per tematica. E come vedete la maggior parte degli indicatori censiti, quindi utilizzati dal sistema per descriverlo sicuramente, sono indicatori di idrosfera. Ciò è spiegabile dal fatto che spesso è le stesse norme relativa in particolare alla qualità delle acque che ti impongono, che ti suggeriscono l'utilizzo proprio di indicatori indice per il monitoraggio delle acque. Ma comunque successivamente abbiamo la qualità dell'aria e i rifiuti. Guarda caso tre tematiche che in qualche modo, se consideriamo in qualche modo il livello di monitoraggio o in termini di statistiche ambientali, possiamo definire le forze tematiche più mature delle altre, se consideriamo il flusso di informazioni, quindi il processo di produzione del dato. E quindi ecco perché più indicatori che appunto sarebbe il secondo livello, in qualche modo, dei dati di base. Ora, dinanzi a questi 1600 indicatori, ci siamo un attimo posti il problema, come affrontare? E quindi qui è il cuore, diciamo, dell'approccio. Abbiamo in qualche modo, operativamente, abbiamo iniziato a dividere gli indicatori per tematiche e abbiamo cercato, sfruttando tutti i metacampi che avevamo, le metainformazioni che avevamo raccolto, di cercare di individuare quegli indicatori uguali o simili, alle volte, diciamo, il nome dell'indicatore non coincideva quasi mai, si assomigliavano per carità, però poi con le altre metainformazioni, soprattutto gli obblighi normativi, come era fatto, cioè che fonte di dati utilizzavano, eccetera, eccetera, insomma, riuscivamo a capire. A quel punto abbiamo utilizzato come strumento una sorta di tabella del genere, una sorta di quadro sinottico del genere, dove che per ogni, quindi, indicatore apparentemente simile o comunque passavamo alla fase che, diciamo, che ci interessava di più, ovvero andavamo a vedere effettivamente queste metodologie come erano e quindi a confrontare le metodologie. Quindi per ogni indicatore segnavamo innanzitutto il livello di diffusione nel sistema, quindi quante agenzie popolavano l'indicatore rispetto al censimento fatto, come, quindi con che metodologia, ne so, 5 metodo A, 4 metodo B, eccetera, eccetera, e a quel punto emergeva il metodo prevalente e poi le ultime due colonne, vabbè, con una serie di note e quant'altro che potevano essere utili in fase, poi, di analisi, successiva, e, praticamente, le ultime due colonne erano le più importanti, sono riepilogative, cioè, proprio, è la percentuale di diffusione dell'indicatore nel sistema, confrontando la nostra popolazione, erano i 18 partecipanti, ovviamente, e la percentuale di diffusione del metodo prevalente. Perché queste due colonne sono le più importanti? Perché nella scelta di questo approccio meteorologico, già come risultato atteso, noi ci attendavamo che gli indicatori potenzialmente includibili in questo corsetto di sistema potessero provenire da tre tipologie, tre liste di indicatori, cioè, quegli indicatori con una metodologia abbastanza condivisa, con gli indicatori più diffusi nel sistema, più un'altra famiglia di indicatori, ovviamente rilevanti, ma, anche se poco diffusi nel sistema, ma, verosimilmente, riproducibili da tutti. Mi riferisco a quegli indicatori che, magari, non c'erano problemi metodologici, la metodologia era abbastanza banale, però, e, magari, utilizzano la stessa fonte di date a livello territoriale, diverso, e, quindi, è facilmente fattibile da tutti. E, in effetti, per la prima parte dei indicatori del corsetto, ovvero per quegli indicatori considerati fattibili da subito, in effetti, il 100% degli indicatori proveniva da queste tre tipologie, quindi, diciamo, non c'è stata nessuna forzatura, tra virgolette. E, quindi, questo approccio ha fatto sì che, da quei 1.600 indicatori iniziali, siamo passati a circa 640. Ora, l'analisi di questi 640, quindi abbiamo fatto questa prima scrematura, l'analisi di questi 640 indicatori è stata oggetto di quei numerosi momenti di condivisione di cui facevo cenno prima. Cioè, qui, a parte quei gruppi tematici con cui ci siamo confrontati reciprocamente per le attività dei rispettivi gruppi, che nelle loro attività avevano anche, in qualche modo dovevano affrontare la tematica indicatore per il loro report tematico. E, quindi, in quel fratto c'è stato un proficuo scambio di opinioni, proprio sui rispettivi lavori, ma, soprattutto, il coinvolgimento da parte dei numerosi, appunto, parlavo di 120 esperti del sistema, quindi di Ispre e delle altre cinque agenzie partecipanti al gruppo, ai quali abbiamo chiesto, ovviamente abbiamo presentato, appunto, questa scrematura fatta e abbiamo chiesto, in qualche modo, delle informazioni specifiche, cioè, di contestualizzare la tematica in sé e soprattutto la relazione degli indicatori su quel tema e, a quel punto, acquisendo come informazioni, il livello di diffusione degli indicatori censiti nel sistema, a livello nazionale o a livello internazionale, così come, poi, per ognuno degli indicatori abbiamo chiesto e, quindi, abbiamo identificato delle possibili soluzioni alle eventuali criticità riscontrate o già note, ovvero già strutturali, tipicamente note dei vari temi. E così è stato. E così, quindi, con questa analisi e col supporto degli esperti tematici fondamentali, siamo arrivati a 109 indicatori, ovvero, questi 109 indicatori li abbiamo ritenuti fondamentali, in senso, rilevanti, per essere, per far parte di questo corsetto di sistema. A questo punto abbiamo presentato, diciamo, abbiamo condiviso questo risultato di 109 indicatori con la rete dei riferimenti, ovvero con tutte le altre agenzie che non avevano partecipato al gruppo di lavoro e con il quale, appunto, lo scambio è stato frequente in tutte le varie fasi del progetto. E, ad un modo, perché li abbiamo presentati? L'abbiamo presentati in quattro classi di fattibilità. Abbiamo i fattibili, ovvero quelli, appunto, dove non c'erano problemi di sorta, non c'erano problemi nemeteologici, né di fonte di dati, insomma, si potevano riprodurre facilmente da tutti allo stesso modo per i propri territori, e poi due classi intermedie, questo forse si dovrebbe che, in qualche modo, sarebbero quegli indicatori per i quali, appunto, serviva una conferma, nonostante l'ausilio degli esperti, sull'effettiva possibilità di popolamento da parte di tutte le agenzie nel territorio con le modalità che suggerivamo noi. E il si dovrebbe, pure, invece, sono quella parte di indicatori per i quali, appunto, in fase di confronto con gli esperti era emerso che magari erano quegli indicatori per i quali esiste magari una normativa, quindi il si dovrebbe, cioè tutti dovevano essere attrezzati per farlo, visto che la norma te lo richiede, però, dal consulto con gli esperti si sapeva che magari qualcuno poteva essere ancora più in ritardo, ecco perché in questa fase le abbiamo presentati al resto delle agenzie in questo modo. Quella condizione, invece, sono tutta una serie di indicatori per i quali la convergenza meteorologica era garantita purché si utilizzasse, quindi a condizione che si utilizzasse, che sono tutti una determinata fonte dei dati di base oppure delle determinate linee guida di sistema, quindi che in qualche modo garantissero quella convergenza necessaria. Invece, l'ultima classe è in futuro da approfondire, ovvero quegli indicatori che, appunto, considerati rilevanti, ma che comunque presentavano ancora una necessità di ulteriori approfondimenti, non sempre, anzi, più che altro approfondimenti non di tipo metodologico vero e proprio, perché altrimenti li avremmo affrontati, ma più che altro tematici, un po' più ampi, diciamo. Però su questo torneremo. Ecco che siamo agli output di progetto, quindi come prima cosa ovviamente il corsetto dei 60 indicatori. Qui abbiamo cercato, di fatto sono indicatori relativi a diverse tematiche ambientali o sotto temi ambientali. Qui abbiamo, ovviamente è leggibile, ma non era questo l'intento, basta guardare le figure. Nel senso che qui volevamo semplici indicatori relativi agli agenti fisici, quindi copriamo la parte della radio di vita ambientale, dei campi elettromagnetici, del rumore, indicatori di atmosfera, quindi di emissioni, qualità dell'aria, esposizione impianti atmosferici, indicatori relativi ai rifiuti, in particolare solo rifiuti speciali, su questo quindi ci si tornerà pure, 5 indicatori relativamente a autorizzazioni, controlli, valutazione e certificazione ambientali, 4 di biosfera, solo 1 di geosfera e in particolare di consumo di suolo, questo è indicativo e ci si tornerà, 10 indicatori di idrosfera, insomma 2 di promozione e diffusione della cultura ambientale e infine indicatori relativi ai nostri determinanti, ai nostri driving force, cioè ai settori produttivi, quindi agricoltura, turismo, industria, energia. Ora per questi 60 indicatori abbiamo selezionato e precompilato dei principali metadati comuni a tutto il sistema. Perché questo? Perché l'obiettivo nostro era quello di cercare di cristallizzare in qualche modo questi metadati che riteniamo utili per chi poi nelle varie realtà del sistema dovrà effettivamente realizzare, cioè popolare l'indicatore come abbiamo concordato fondamentalmente e quindi sapere che cosa deve contenere l'indicatore, quindi la descrizione dell'indicatore, come lo deve fare, quindi la metodologia di elaborazione, con che dati, quindi la fonte dei dati di base e ogni quanto ci si aspetta l'indicatore, quindi la periodicea dell'aggiornamento, l'abbiamo voluti in qualche modo fissare, quindi sono un allegato del rapporto proprio su questi 60 indicatori. Su questi metacampi, anche qua, due flash di informazioni statistiche interessanti, cioè 68% degli indicatori ha come fonte di dati il sistema e questo appunto è importante proprio come sistema sottolineare questo aspetto, ma in ogni caso gli altri indicatori, le fonti dei dati provengono da enti, in ogni caso appartenenti al sistema statistico nazionale, quindi stiamo parlando sempre date di base di statistica ufficiale del Paese, quindi mi riferisco a Istat, Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Agricoltura, GSE, insomma, quindi stiamo parlando, queste sono le fonti, per quanto riguarda le fonti dei dati. Per quanto riguarda la periodicità di aggiornamento, informazioni che ci tornerà utile in una fase successiva di questo step metodologico, e il 75% degli indicatori ha una periodicità di popolamento annuale, mentre il resto o biennale o sessennale, come nel caso di diversi indicatori di idrosfera, o quinquennale, come nel caso delle emissioni atmosferiche. L'altro output, abbiamo la lista dei 49 indicatori. Qui riusciamo a recuperare, e quindi qui in qualche modo forzando nel senso, con l'ausilio ovviamente degli esperti tematici, riusciamo a recuperare alcuni sottotemi, per i quali non si era stato in grado, non era stato possibile prima individuare allo stato attuale nemmeno un indicatore tra quelli popolabili da subito. E mi riferisco, per gli agenti fisici, recuperiamo indicatori sulle attività nucleari, sull'atmosfera recuperiamo indicatori relativi al clima o ai pollini, per i rifiuti, la parte dei rifiuti urbani, e poi, come vedete, sulla parte di geosfera, invece recuperiamo altre componenti, che prima c'era soltanto uno di consumo di suolo. Qui in qualche modo, più che altro, si considerano degli indicatori, un po' che coprono altri aspetti della qualità dei suoli, il distesso idrogeologico, i siti contaminati, più altri indicatori prettamente geologici. E infine, tra i settori produttivi, recuperiamo invece i trasporti, per i quali appunto non era stato possibile trovare un indicatore. Ulteriore output di progetto è la scheda metadati, la scheda indicatore di sistema. Qui, di fatto, ovviamente, anche qui abbiamo, siamo rifatti alle esperienze presenti nel sistema, che a loro volta si basavano su letteratura nazionale e internazionale in materia. Abbiamo cercato di sintetizzare quanto più possibile questa scheda, però non perdendo quelle informazioni, le informazioni più importanti. Quindi andiamo dalla parte delle caratteristiche dell'indicatore, quindi appunto la descrizione, lo scopo, gli obblighi normativi, come viene collocato nello schema DPSIR, che è il nostro framework di riferimento, oppure tutta la parte sulla qualificazione del dato, quindi la fonte dei dati, l'unità di misura, l'accessibilità di dati, su questo tornerò, così come sulla qualificazione dell'indicatore, quindi tutta la parte relativa più alla metodologia, alla copertura, alla periodicità di aggiornamento e così via. Infine la scheda conclude con un, diciamo, con uno zoom sullo stato e trend dell'indicatore e poi con gli elementi principali dei dati a corredo della scheda metadati. Ci tengo a sottolineare in particolare l'inserimento di un campo particolarmente sentito sia dal gruppo di lavoro che poi dalla rete dei riferimenti, perché, diciamo, che non era emerso dalle nostre ricognizioni, però ci siamo tutti affezionati a questo campo perché in qualche modo l'abbiamo visto come un ulteriore passo in avanti verso una maggiore trasparenza. Cioè nella sezione, quando si parla dei dati, quindi dalla parte dei dati di base per costruire l'indicatore, in questo campo di accessibilità si chiede di specificare la modalità di riferimento dei dati cercando in qualche modo di rendere quindi tracciabile questo processo. Ad esempio, io storicamente ormai mi occupo della relazione fra turismo e ambiente, quando andiamo a fare l'indicatore sulle infrastrutture turistiche, qui, oltre a mettere i dati, sono di Istat, e poi ci sono le colleghe, specificherò che si tratta dell'indagine capacità dei sessi ricettivi e possibilmente andare a mettere il link del data warehouse di Istat dove scarico i dati, in modo tale che la scheda metadati ti dà tutto quello che serve per sapere come è fatto l'indicatore e in questo modo, con questo campo, soprattutto per quegli indicatori extrasistema, si riesce a dare questa altra tracciabilità, in modo tale che il processo è totalmente trasparente, almeno con questa finalità abbiamo smesso questo campo nella scheda. Ultimo output di progetto, si tratta appunto di questi contenuti minimi richiesti per questa sorta di vetrina web, per questa sorta di strumento che noi immaginiamo dovrà mostrare questi indicatori di corsette per i vari livelli territoriali, differenti, allo stesso momento, ma sotto forma di scheda indicatori, quindi sfruttando tutta questa base informativa che si va a costruire per ognuno di questi indicatori e che sarà comunque oggetto di un nuovo gruppo interagenziale. Infine, questa è una slide assolutamente pubblicitaria che questo è il rapporto dove trovate tutto ciò che vi ho appena raccontato, quindi il rapporto di sistema che si trova nel sito di ISPA, nella parte delle pubblicazioni del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente e come gruppo abbiamo fatto però un altro documento che al momento è ad uso interno del sistema ed sono le questioni aperte. Diciamo che è una sorta di approfondimento dello stato dell'arte, quindi delle criticità riscontrate su quei 49 indicatori per i quali ancora dobbiamo lavorare, mettendo, indicatore per indicatore, suggerendo, sempre con l'ausilio fondamentale dei vari esperti tematici coinvolti, delle possibili soluzioni operative, e quindi in qualche modo degli indirizzi sulle strade da percorrere per cercare di iniziare ad affrontare, speriamo superare al più presto, le criticità emerse. Un cenno, avevo detto, sugli sviluppi futuri, proprio un cenno perché magari se ne riparlerà dopo, ma di fatto è già stato deliberato che ci dovrà essere una fase 2, una fase 2, quindi un gruppo di lavoro interdisciplinare, quindi non solo esperti di reporting, ma anche appunto informatici, visto che bisogna fare poi questa vetrina web, e soprattutto esperti di comunicazione perché questo deve essere lo strumento per comunicare con un'unica voce questo corsetto di indicatori e tutte le informazioni, e poi dovrà occuparsi in qualche modo dell'identificazione delle modalità di popolamento e gli strumenti di condivisione, oltre che supportare tutta la fase del popolamento vero e proprio. Concludo con questa, forse abusata nuvola di parole, però sono tre parole maggiormente rappresentative nel documento. Ora, a parte indicatori ambientali, sistema e vari temi che era prevedibile, mi piace sottolineare la presenza della parola metodologia, perché di fatto è un lavoro prettamente metodologico, e condivisione, proprio per i numerosi momenti di condivisione avute, e quindi ringrazio ancora tutti quelli che hanno collaborato. A questo punto, grazie per l'attenzione o fate voi per la sopportazione. Grazie. Grazie. Bene. Giovanni ha raccontato un po' la metodologia che è stata illustrata, come lui ha già riferito, tutto è stato riportato in questi due volumi, spero che vi abbia motivato a sufficienza affinché voi possiate prendere adesso questi volumi e li possiate approfondire e dare ulteriori riscontri e suggerimenti al gruppo di lavoro per migliorare sempre più il prodotto, perché riteniamo che questo prodotto sia la base per una serie di produzione per diffondere l'informazione ambientale di sistema e non a caso, proprio all'interno del programma triennale con il sistema agenziale, sempre nell'area metodologica e reporting, erano inseriti altri gruppi di lavoro metodologici che vedevano agli indicatori e in particolare c'era il gruppo di lavoro per redigere il report tematico sulla qualità dell'aria, un gruppo di lavoro che doveva fare le linee guida per redigere un documento, un report sulle acque, uno per quanto riguardava i controlli e non ultimo, che noi abbiamo inserito oggi anche nell'ambito di questa presentazione, quello delle linee guida per il report sullo stato dell'ambiente di sistema. Bene, nel fare questo lavoro, Giovanni non l'ha sottolineato, però c'è stata anche convergenza per l'individuazione di questo set comuni di indicatori anche con gli altri gruppi di lavoro che stavano approfondendo le informazioni e quindi gli indicatori e i seti di indicatori relativa all'aria, relativa alle acque, relativa ai controlli e anche, nello specifico, anche per quello che era relativo al report di sistema. Quindi diciamo che oltre ad essersi interfacciato con le singole ARPA e con la rete dei referenti, c'è stato anche un lavoro e una convergenza con gli altri gruppi di lavoro che stavano per le proprie attività e nel proprio gruppo di lavoro individuando anche degli indicatori in maniera tale da avere come indicatori di sistema un'unica voce e indicatori scelti tutti con la stessa metodologia. Quindi anche questo è un fatto importantissimo per la realizzazione perché non si è voluto lasciare nulla essendo questo un documento intertematico si è comunque interfacciato anche con i tematici per tenere conto delle informazioni che venivano riprodotte in quanto come documento di sistema dobbiamo sempre far sì che la base di date ecco perché questo è fondamentale che le base di date e gli indicatori che vengono popolati all'interno del sistema devono trovare tutti la stessa metodologia e ce li dobbiamo trovare in tutti i report siano essi tematici siano essi di sintesi intertematici adesso passerei le prossime relazioni affrontano proprio i set indicatori di sintesi Grazie.